Come forum multi-stakeholder per il governo aperto abbiamo proposto al ministro per la pubblica amministrazione una serie di terreni di collaborazione su alcuni argomenti che per noi sono particolarmente attuali e strategici per il governo aperto. Ad esempio un tema fondamentale è la trasparenza dei rapporti con i portatori di interessi. Soprattutto in questa fase delicatissima di attuazione del PNRR è cruciale garantire l'integrità e la trasparenza delle decisioni pubbliche. Strumenti molto importanti in questa direzione sono ad esempio il registro dei portatori di interessi e soprattutto la pubblicazione delle agende e dei decisori pubblici. Esperienze che in qualche amministrazione sono già attuate in questo momento però in un'ottica di maggiore razionalizzazione cercando anche di promuovere una maggiore diffusione di questi strumenti sarebbe auspicabile un coordinamento a livello nazionale accompagnato dalla volontà politica di garantire e promuovere sempre più l'integrità e la trasparenza e l'apertura dei processi decisionali. Un altro tema sul quale abbiamo offerto la nostra collaborazione è la tutela del whistleblower soprattutto considerando che è appena cambiato il quadro legislativo con la recezione della direttiva comunitaria e soprattutto considerando quanto sono ancora forti le resistenze di ordine soprattutto culturale nei confronti di un istituto che viene percepito come alieno. Ecco potrebbe essere auspicabile allora in questa direzione fare una sorta di endorsement di quelle buone pratiche che sono emerse dalle singole azioni nell'attuazione del quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto che cercano proprio di colmare queste lacune e di superare queste resistenze. Un altro tema sul quale abbiamo offerto la nostra collaborazione è quello delle semplificazioni. Sappiamo benissimo quanto siano importanti le semplificazioni soprattutto nel momento attuale però vorremmo superare quella logica di una sorta di dicotomia tra semplificazione da una parte e integrità dall'altra perché non devono andare in contrapposizione ma sono due facce della stessa medaglia. Quindi ecco nemmeno contrapporre la performance alla trasparenza o appunto all'integrità ma cercare una semplificazione nell'ambito di una maggiore razionalizzazione ma che rimanga sempre all'interno dell'obiettivo di promuovere una cultura dell'integrità. Su tutti questi temi noi come forum multi stakeholder cerchiamo di spostare l'attenzione per portare dal livello operativo che è già presente all'interno delle singole azioni del NAP diciamo un cambio di passo, un approccio strategico e politico per consentire alle politiche di governo aperto in Italia di fare un ulteriore balzo in avanti.